Ciao a tutti ragazzi, bentornati finalmente in un nuovo video di FIFA 15 Purtroppo ragazzi, ve l'avevo già detto nell'ultimo video, un periodo un po' così Lavoro, calcio, palestra, roba varia Insomma, finalmente sono riuscito a connettermi per fare qualche partita della divisione Spero due sole per vincere il titolo perché ci manca un punto per la promozione E ci mancano quattro punti per vincere il titolo, ci mancano quattro partite Speriamo di riuscire a farle solo due perché ragazzi non ce la faccio più Voglio arrivare il prima possibile in prima divisione Oh, finalmente giochiamo una partita in casa Era anche l'ora Cambiamo un pochino maglia Eh beh, che cazzo, gioco in casa io, decido io, messi già E' ma bella, yeah 87 Dio mio, c'ha Di Maria Toti, Sanchez Sif Eh, Silva Sif De Gea If Ciao Guè No dai ragazzi Cioè, in quinta Non mi potete mettere sto squadrone No, veramente ragazzi, se vinco sono un fenomeno Porco Giuda, Dio buono Non è possibile in quinta divisione trovare uno Con il giocatore di Toti Che caspita Vai Gonzalo Ma va fa un culo, che cazzo di culo di merda Ma va fa un mucca tua mamma ta Buuuu Madonna mia E vai Gonzalo 1-0 Gonzalo Liguain Un tipita mio ragazzi 1-0 Buone, 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 buone Questo lì c'ha, c'ha tre if C'ha tre if e un Toti Cioè, giusto per onor di cronaca Vai Gonzalo Senza pietà Senza pietà Un po' la Kenny il guerriero Oh, quelli che skillano così tanto Guarda Sono odiosi sono Bene, Dio buono La prossima volta Guardate Ti ho tirato nel viso Pure Rich Steiner Vai che ha visto te Eeeh Carlitos Ta-Neh 2 migliori in campo, una traversa, un gol e un assist Andiamo, abbandona, andiamo, abbandona e dammi 3 punti agili, subito, subito, subito Che cacchio vuoi fare, si può sapere, cosa vuoi fare Tutto farò un lungo e lungo, tra poco le cose Rigore, madonna mia Che palle Io al primo tempo, vantaggio di 2 no Ho fatto un volo, sembra che l'ho fucilato Poi nemmeno ho fatto l'intervento, no, preme X e basta Andiamo da tiro, stai Speriamo di infortuni per davvero Andiamo 3 ore ogni volta Oh che pizza Oh che palle Manna santa Te sto schilla Schilla Eci Pado Che bis Ho scelto le palle sto vidi Cioè veramente, questo è il giocatore che schilla di più in assoluto Non ho mai trovato uno che schilla così Gonzalo Liguain Che culo, nemmeno il calcio d'angolo Questo qui fa un numero Cioè mi è passato pure in mezzo a 2 E' rotto il cazzo Testi numeri di merda No Mamma mia che pressione Ce la faccio io Tiene troppo palle Cioè veramente Io un pazzisco Gli tiro un calcio nelle caviglie Veramente Gli le faccio partire Che palle Solo questo sa fa Manca a cogliere i patane se avessi burro Mamma mia Che palle Vai Carlitos Falli numeri Falli numeri Ti servono Adios E la promozione c'è Manca un punto per il titolo Ragazzi non è possibile Faccio il video della divisione Mi manca un punto per vincere il titolo Al momento non è possibile Stabilire una connessione con i server EA Controlla la tua connessione di rete Riprova più tardi Non è possibile ragazzi Veramente Ma perché Mi manca un punto Non mi vuoi venire a rompere le palle Oioi Oioi Niente ragazzi Io ho più di riprovare Riprovare Non posso fare niente Niente Direi a sto punto Finiamola qui Perché Tanto promozione L'ho ottenuta Mancava solo un punto Per vincere il titolo In ogni caso Sono in quarta divisione A sto punto Io lo chiuderei qui Mi dispiace aver fatto una sola partita Ci tenevo anch'io almeno a farne due Però a sto punto ragazzi Vi do appuntamento Per la prossima settimana Vi auguro una buona Pasqua Perché non credo proprio di riuscire a fare un video Per Pasqua Perché forse Probabilmente Vado anche dai parenti A festeggiare Quindi niente Ci vediamo per il prossimo video Naturalmente sarà sempre un video da divisione Perché Non ho abbastanza crediti Per Per un pack opening E niente ragazzi Mi raccomando Lasciate sempre Un mi piace Fa sempre piacere Un commento Se avete consigli Nell'ultimo video Non ne avete dati Quindi vi chiedo sempre consigli Non si sa mai Tra formazione Roba varia E se non lo siete Naturalmente Iscrivetevi al canale E ci vediamo Per il prossimo video Ciao a tutti